Il Bailazio è un'occasione importante per la promozione turistica e non solo di tutto il nostro territorio. Il fatto che ci sia stato l'accordo di questi enti sovracomunali, rappresentanti di tutto il territorio, è sicuramente il modo migliore per approcciare il problema. Soltanto stando in rete, non solo come operatori, ma anche come amministrazioni locali, è il miglior modo per fare quelle sinergie e per mettere insieme gli sforzi che servono a dare un grande impulso allo sviluppo turistico del nostro territorio. Il concetto di rete sarà sempre più importante su queste tematiche e sicuramente il permettere che tante amministrazioni e tanti enti sovracomunali possano interloquire tra di loro e possano promuovere congiuntamente le nostre bellezze, le nostre ricchezze culturali e il nostro patrimonio naturale è sicuramente una cosa molto buona per tutti i cittadini perché il futuro del nostro territorio, lo sviluppo del nostro territorio passa sicuramente per il turismo e per la promozione delle nostre bellezze.